Chi incomincia bene è a metà dell'opera. Per il PDL, almeno per il momento, non è così, in quanto ognuno sta andando per la propria strada. Qualcuno spera in una manna dal cielo per ricucire gli strappi. Non è da escludere un intervento del coordinatore regionale Filippo Piccone o addirittura del governatore Gianni Chiodi per mettere una parola fine alle divergenze che nuociono gravemente alla salute della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali che, per chi non lo sapesse, è già iniziata. Non è facile comunque ricongiungersi, sperando in un passo indietro dell'uno dell'altro, in quanto entrambe le componenti, la propaganda elettorale, l'hanno iniziata a parte. Va avanti il lavoro per la formazione delle liste. In appoggio di Luigi La Civita ci saranno probabilmente quattro liste, di cui tre sarebbero state già chiuse. Sono una del candidato sindaco, una civica, e l'altra del PDL. Chi dei due schieramenti potrà però utilizzare il simbolo del partito di Berlusconi? Alla domanda di corrente i vertici regionali non ancora rispondono. Ecco perché si prevede un intervento immediato ed urgente di piccone company che dovranno sciogliere il nodo. Nel centro-sinistra qualche problema sta sorgendo con i sostenitori di Antonio Iannamorelli, che stanno mettendo in piedi una lista chiamata Certo che partecipo, utilizzando così stesso nome slogan della campagna elettorale delle primarie. Gli altri non gradirebbero però questa azione. La contrarietà nasce perché la lista andrebbe ad identificare la singola persona, cioè Antonio Iannamorelli, che per sviare questo discorso non intenderebbe candidarsi. Gli viene chiesto di trovare un'altra denominazione alla lista. Il candidato sindaco Peppino Ranalli va avanti invece con il motto usato proprio alle primarie, pronti per cambiare, che sta funzionando. Scrive sulle pagine di Facebook dopo un recente incontro al comitato elettorale alla presenza dei giovani. Ranalli si rivolge proprio a loro con l'intento di riportarli al centro della discussione politica.